Devasto? No, no, un altro nido di questi posti da visitare Adesso stiamo esplorando la terza, questa è la terza villa Questi da fare d'estate o in primavera Troppo cane, questo cazzo Era veramente grosso Che questi Calabronia Io ne ho visti due attivi alla Villa Giulini Hai visto il video della Villa Giulini che avevo fatto? Che è successo? Qua d'estate rischiavi la pelle Vieni a vedere Vieni a vedere Guarda Madò Era grosso quanto la finestra Qua attenzione Calabroni Madonna E qua qualcuno l'ha aperto e l'ha distrutto Non ci posso Era inesplorabile d'estate, rischi veramente Madonna Scusa ma Allucinato Perché l'hanno aperta Non è capito Secondo me è per distruggere il nido e fare delle foto Porca vacca Ovviamente l'hanno aperto da nido inoperoso perché È gigante Questo? È un pezzo di nido Sembra un osso Sembra un osso Sembra un osso Non c'è niente di... È un po' di roba c'è Sì ma non... Hai visto che cassette sono qua? Musica? Sì ma sono cassette... Sono nastri Cioè questo qua è proprio... Vintage Debo Camanette Vieni Vieni a vedere Dove sei? Qua qua Frank Sinatra Ah cazzo ancora... C'è qua Anche questi hanno un bel valore Cioè gli appassionati comunque nei mercatini Anche queste qua sono... Sì ma che formato hai mai visto? Le prime music... Le prime musicassette magnetiche Incisioni magnetiche E queste sono le casse forse? O sono custodie? Sono... Allora... Questo era una bomba Questa era una roba portatile Queste... Questi... Vedi le cerniere? Si montavano qua sopra E quindi tu avevi le casse... Ecco le si... Le casse portatili E il... Chiamiamolo... Mangiacassette Guarda anche qua! Pazzesco! Che mi copro un po' con la sciola Che c'è un po' una puzza strana Ma hai spostato a questa casa qui? Chi ci viveva secondo te? Che... Non penso che esserlo servito sicuramente Sembra meno... Lussuosa rispetto alla... Sì... 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 Qua è rimasta... La cattazzina... Una piccola cucina ancora la bombola è rimasta qua... Qua è rimasta ancora la bombola del gas... Guardi i campioni di scherratura... Arrivo, arrivo... Come hai visto questa serratura in cinque... Arrivo, arrivo... Aspetta... Mi faccio... Stanza per stanza... Pantoni... Apervi il dolore... Apervi il vessuto... Gli arrocchi... Assurdo... Sì... Comunque assurdo... L'esplomazione di oggi eh... La roba... Ammazza... Ma che casino di qua... Qua invece? Guardi... C'è pane per i miei denti... Documenti? Documenti... Ma... Tutta roba... Questi sono appunti... Del 74... Appunti scritti a mano... Tutto stretto... Magari non dire il nome... Se vedi qualcosa... Sì... Devo censurare... Sono... Gli avvoltoi... Sono sempre in giro... Sono... Appunti relativi a lettere... E corrispondenze... Ma è di un'azienda... Sicuramente di un'azienda... C'è... Macchine... Questa qua era una macchina da scrivere... Fra virgolette moderna... Sì... Elettronica... Elettronica... Sì... Tutti i campioni di... Materiale... Sì... Questo è l'ufficio... Classico ufficio... Sì... Anche questo è una... Vedi... Un campione di una porta... Tutta roba... Tutti archivi... Sì... Come dici te... Qua sono... Sono scappati al volo... Sì... Diciamo... Per lasciare tutta questa documentazione... È vero che... Vabbè... Ci sta nelle aziende... Si tiene tutto... Per X anni... Questo cos'è? Però... Pazzesco... Ragazzi... Non voglio entrare... Qua non sono entrato... Cioè... Ho guardato da fuori... Ma... Non... Proprio... Bisogna fuori... Fugare... Sì... È inutile stare qua... Comunque... C'è odore di carogna... Sì... Anche umidità... E certo... Ma... Questo è proprio... E' odore di carogna... O forse... Fugna... Qua c'è il bagno... Eh... Sì... C'è il bagno... Si è diventato prima... C'è tutto... Quindi sono... Comunque... Lavori... Scusa... Ma quel... Cosa... L'abbiamo fatto... Sì... No... Qua... Qua è meglio non entrare... No... Io non... Anche perché... Se vuoi puntare il muso dentro... E guardare... Non c'è veramente nulla... Cioè... Si vede proprio... Piano di sotto... Sì... Sì... È passante... Ma non è... No... Però non vale la candela... È essere tipo un... Sottotetto... Con un po' di... Marciume... Io faccio una cosa però... Eh... Sì... Allora... C'è una scuola di pensiero... Che è una reale... Cioè... Non è che è meglio uno l'altro... Quello che ho visto... Poi dite... No... Non sapevo... No... Dai... Ho detto... Che era... Questo intemperio... 126... Mega... Andato... Questa è una... 126... Neanche la bis... È cannibalizzata... Cos'era... Blu? Si... Quell'azzurrino... Blu... Eh... Carabinieri tipo... Che peccato... Sapevo... Dalla... Sembrava intatta... Ma infatti... Ho detto... Ma strano... Così... Alle intemperie... Che peccato... Che peccato... Verrà lasciata così... E non verla messa in un box... Anche questo è curioso... O magari... L'han tirata fuori... Era la sotto... Per cannibalizzarla meglio... Dunque... Guarda tanto... Guarda... Che l'erba... Le ruote... Anche altra... C'è qualcosa sopra... Un... Bruderi... Dici... Dio... Un oggetto in qua... Ciao ragazzi... Che esplorazione incredibile... Eh Gabri? Molto bello... Veramente molto molto bello... Adesso... Pausa pranzo... E... Via... Verso una nuova esplorazione... Ciao ragazzi... Ciao a tutti... Ciao... Grazie a tutti.